Non lo so se oggi Palermo si può freggiare di questo titolo di città felicissima, ma se non si può freggiare noi dobbiamo sentire la responsabilità di ridarle quello splendore che Palermo si merita. E allora vogliamo pregare per questa città, per tutto quello che questa città può ancora produrre e dare e vogliamo chiedere al Signore che questa città possa avere la forza attraverso i suoi cittadini di recuperare la sua grande dignità e la sua grande bellezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.